Io mi chiamo Mino, sono il legale rappresentante di un'azienda vitivinicola, azienda composta di circa 30 ettri di vigneto. Produce un po' di tutto dei vitigni autoctoni salentini, in particolare il negro amaro che è l'uva principe del territorio. Questa produzione trasformata in vino viene quasi tutta venduta, parte in ingrosso e parte in un punto vendita, come vendita mescita. Ho deciso di dedicarmi anima e cuore a questo tipo di lavoro perché lo amo. Lo amo e comunque voglio portare avanti una tradizione sia di territorio che di famiglia. Io sono Mino, dell'azienda agricola Rucco, io sono terra dei Messapi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.